Pensa che ora viene normalmente, non è partito il buono dei fiori, non è partito neanche l'impresso B al comando, il 5 di, il 3 di ok B, allargo c'è subito Nick dei fiori, quindi ok B, allargo Lister Pigott, ancora Nick dei fiori, poi c'è l'errore di Lister Pigott si aggancia con il numero 5 di Luce del Nord, poi c'è ancora il numero 6 di Master di Azzurra, ancora Impress B, in avanti è Nick dei fiori, Nick dei fiori che controlla la situazione, nei confronti di ok B, poi c'è Luce del Nord, ancora il numero 6 di Master di Azzurra, quindi Impress B, ritmo piuttosto allegro, impostato da Nick dei fiori, con KB, allargo c'è ora la progressione di Olla di Azzurra, che ora si porterà presso sicuramente Galad Run, c'è poi il Master di Azzurra che viene però anticipato da Luce del Nord, Luce del Nord che ora va all'attacco deciso di Nick dei fiori, quindi il Master di Azzurra, ancora gli altri, Nick dei fiori in avanti, Luce del Nord ancora ok B, poi Master di Azzurra allargo di Impress B, quindi in avanti è proprio Nick dei fiori, Nick dei fiori che controlla la situazione, Luce del Nord ancora Master di Azzurra, quindi Olla di Azzurra, in avanti Nick dei fiori, poi Luce del Nord che ora rinnova gli attacchi, ok B lungo i birilli, quindi Master di Azzurra attacca a fondo Nick dei fiori e proprio Luce del Nord, quindi ok B, ancora Olla di Azzurra pronta a venire via, in avanti è Nick dei fiori, Master di Azzurra allargo, ancora Olla di Azzurra che ora prova la terza ruota, prova la terza ruota Olla di Azzurra, quindi Galad Run in avanti è Nick dei fiori, Nick dei fiori che controlla la situazione, Olla di Azzurra ancora, Galad Run nel fatto conclusivo, Nick dei fiori, Olla di Azzurra le prese, Olla di Azzurra che sul traguardo vince secondo posto, Galad Run in avanti è